musica 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 ciao a tutti ragazzi benvenuti in super carne ragazzo nuovo cazzeggio il secondo di questo videogioco perchè? perchè ci andava perchè ci andava e abbiamo battuto il boss ricordate il boss che non riuscivamo a fare per un cazzo abbiamo battuto per la telecamera spente perchè non avevamo parla di sclerare così tanto da non riuscire a passare obbligato di perdere un video intero esattamente questo è il nuovo mondo godiamoci la storia ospedale va bene da 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 sempre 20 sono ok eh no 40,80,60,50 questo l'abbiamo superata che caccia ah funziona diciamo come minigame va però forse è il salto più piccolo però può stare su spesso cazzo cazzo eh eh si è un po' complicato ma tu sei proprio scazzo sono proprio scazzo io questa cosa della sospensione è ottima però nooo non mi ha fatto la sospensione l'ultima volta ci provi tu poi ok ok nooo sai cosa secondo me appena tu salti dal muro devi tenendo premuto senza mancarlo un'altra volta ma come cazzo ti salta? con l'equipamento del cerchio ok senta scriveremo il primo livello di questo secondo mondo figuratevi lo sai che cosa cosa conviene fare? per dipendersi quello switch character e ci diamo super meat boy perchè sennò non ho la sospensione famiche e tutta un'altra cosa e poi che cazzo si perde il bello vabbè come cazzo più vale scusa attenzione bravissimo oddio no ho capito ho capito ho capito come è fatto devi prendere la rincorsa pure mentre sei in volo si può si può ottimo qua non mi funziona i tasti dai dai tutta e fa il supersalto infatti una super velocità diciamo ti sei roppo un dito nooo dai e dai e minchiava è l'ultima e poi ci provo io oh è il primo livello cazzo speravamo di non sclarare con il boss e stiamo sclarando con questo vabbè stai vai provare allora ho capito tutto ragazzi ve lo faccio a primo conto no figura di inverno dai che farei se non ci riesci infatti figura di inverno che figura di inverno che figura di inverno ma sono scorie fammi capire ma che cazzo lo so ah ci sei riuscito ma perchè ma che sei sceso no pensavo sghiddasse poi c'è il verbo sghiddare scivolare ok sghidda di nuovo vai che c'è la nooo non la provisco aspetta stavolta giuro che ce la faccio devo andare a fine qua no no non ce la faccio non lo so si che ce la faccio no no perché si ragazzi che falle ho capito come fare comunque devi premere più o meno quasi assieme i tasti del salto e della rincorsa che culo si 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 livello 1 completato che si fotta l'ospital ok qui devi cadere qua ah no no è bravo mmm va bene c'è un cerotto quale? dov'è? la sotto a destra serve mi dobbiamo prendere per scocchiare i personaggi eh si in teoria non sappiamo neanche che personaggi ci sono allora facciamo così e già non riesco a capirlo mettiti qua e fai un bassettino che fallo no 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 non mi funziona il salto ok ottimo daviettivo era velocissimo destra destra no no è troppo presto eh beh vaffanculo sta cazzo di gravità che esiste ma vaffanculo è impossibile prendere quel coso che cazzo è l'agitazione che ti fa andare a destra a sinistra appena prendi il cerotto non ti muovere più di tanto a destra ok? non ti muovere più di tanto a destra devo prendere forse il gradino del cazzo eh no cazzo zanzati non puoi mai carire da là e se non c'è niente dall'acqua? eh non può prendere il cerotto si che lo possiamo si deve essere cazzo un un pro deve essere un protonico un protone nega nega cazzo vabbè vabbè io non sto scassero la scrivania ragazzi non è successo niente salta salta e fai ciù ciù si è l'unica cosa? fai ciù oppure ci vuoi andare da qua ma non è un fottuto gradino infatti era un tubo di merda salta qua e fai il non è un tubo di merda non è un tubo di merda ma non è un tubo di merda troppo pro bandage vero il trasolzionotto in teoria in pratica non ci sa ragazzo oh che bello sto livello ma che cazzo si ci sono le cose che cazzo l'hanno notato ma che cazzo no riusciamo di rigenerarlo avevo fatto una cosa strana che nemmeno non ho notato che ho fatto devo fare un saltino piccolissimo e voilà e voilà madonna mia perché non ci vai subito hai fatto tre ore non è giusto a credere vai ora attenti vai salta di nuovo manca una corda di violino è così tesa non mi dire che vuole no 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 l'elepicità no no lo vedo c'è questo rischio però deve andarci con la super velocità o ci andiamo a prendere un po' così ok ci vorrei vado prendi la carica ora spesso minchia per poco bellissimo no 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 ok vaffanculo attovento ottimo oh cazzo nel vento non te la fa fare la super velocità no ok guarda come è diventato in alto io voglio fare una cosa del genere aspetta cosa? la rincorsa aspetta dobbiamo ricadere perché così è troppo basso sì infatti ok easy che culo ti sei chiamato in testa sì bastardi sembrava troppo facile il livello c'è troia no 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 dai devi prenderla tutta al principio no aspetta figlio dicchia no troppo complicato ti stai rompendo le dita questo è lo scleroto lo dico io ma no ma no ma no chi è senza di pomodoro l'ultimo e ci provi tu non l'avessi mai detto sai cosa puoi da cosa puoi dedurre che io sono che spero dalla risulta dalle c'è il joystick che è un cazzo di da te acqua non è più un joystick o joystick o joystick lì quei fatto che come ci ammazzano tipo in addoni ma chi se n'è joystick 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 è lo stesso no vabbè no l'importante è che ci sia il sudore non no l'importante è che i tasti funzionano bravo ma annaggia ma se si potesse fare una cosa ma no ma non devi puntare su sono fatto che faccio si l'ho visto perché magari mi guarda via le dita si io guardo tutte guarda le dita che te stai rompendo io provo proverei qualifero una cosa che non si riusciva veloce ok no è qua di accendere veloce per forza perché è troppo troppo largo quella dici tu ho capito ma non lo credo sei sicuro? si lo faccio allora evitiamo la ruota prima di morire come un coglione all'inizio è una cosa bella che ci sono morti tipo 10.000 volte che dici? ah 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 cioè è stata una cosa assurda ok ti sudo un po' il joystick minchia devi andare di velocità ecco beh no si no facci di velocità correndo no facci di velocità correndo dai è bloccato mi avevo condannato in corsa ma non porre di essere tagliato grazie se no sarebbe troppo service e mo minchia aspetta come lo fai di nuovo così è là sotto no è là sotto devo andare là sotto devo andare qua no devo andare là sotto no si anche perché ormai no devo andare qua oh eh io qua dicevo minchia è per là sotto io che intendevo dire se è l'unica volta che scenderà qua pensavo là sotto questo scherano mi fotte la testa ragazzi la testa the head madonna quello grosso c'è quello che faccia valigare io sono parte sembra uno ebbeti io sono parte tu devi saltare e ormai che wow che cazzo non l'avevo vista ti giuro manco io questa qua c'è una cosa sola bravo morire ora 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 no minchia di velocità ce l'ho andata facciamo che cosa invece no si vabbè c'è una cura c'è una culla c'è una culla c'è una culla ma c'è una culla c'è una culla c'è una culla c'è una culla pomodoro non puoi lo so quanto è bello scriverà ragazzi questo è tanto è bello più che altro è bello quando ti senti soddisfatto quando ti senti soddisfatto che finisce il livello ci fa sul modo per sparargli se un fucile ti giuro non te la faccio più che lento cazzo ma fanno a posto per farti salire i nervi dopo dopo lo devi fare gugi farlo scendere ancora farlo arrivare perlomeno qua eh vabbè ma non ti prendo aspetta vai ora dai no come cazzo la sua velocità devi saltare direttamente in quel tron tron quel pilastro palo come cazzo voglio andare quella colonna ecco dai dai che ci sei dai cura è tu è tu dai no non mi ha preso il il super meat boy il super meat boy in piena faccia ce ne ho ce ne ho non dovrebbero andare più veloci talmente tanto sangue che c'è là da scivolare ma se sono figli di troia ce ne è fatta questi giorni fanno per me forse abbiamo fatto 10.000 ragò dovrei prendere la chiave io ce ne ho 8 ma che figli di puttana ma ragazzi dovrebbe essere così non mi capire buttati là no buttati qua scivola no sai com'è nel muro non attello così capito quello si si quindi io ti farei tipo una pasage no ma non ce la farò mai non ce la farò mai a farlo che dico io non ce la farò mai non ce la farò mai non ce la farò mai nel muro fidati fatti che cosa salta senza muoverti però non mancherà niente no peccato scendere qua in questo piccolo buco di no perché poi piglia troppa velocità no devi piglia velocità ma non si ferma si che si ferma ma ti devi mettere un po' più a sinistra ora non si ferma vabbè che cosa ferma ok 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 no fotti dal cerotto vabbè dai facciamo una cosa normale un bravo che è molto più semplice vaffanculo però ok ok calmati va bene diretto non pensavo al cerotto perfetto io staccare il gameplay ma si dai ma si che livello ah vabbè vai qua minchia deve andare velocissimo vabbè ok ultima volta salta foia eh qua devi ma sei vando sopra perdo si modello cane devi aspettarlo vai là vai là vai là vai là hai ragione hai ragione non l'avevo proprio visto quel cazzo di terreno c'è la giù la velocità devi arrivarci per forza ce l'hai qua vai ce l'hai qua stacchiamo il gameplay qui qui proprio qui mentre si vede il replay quindi se il video vi è piaciuto pollice in su a questo cassetto commentate e condividete e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao